Chi era l'Apple? Ho conosciuto lì Steve Jobs, quindi cambirei. Vedere l'Apple nell'85, vedere quello che era a Palo Alto, lì a Cupertino a Palo Alto, vedere Steve Jobs, pensa quando sono ritornato. Da sempre ci siamo preoccupati di offrire un'esperienza ai nostri clienti, ai nostri amici. Raccontarti un prodotto che non fosse solamente una scatola, ma fosse una soluzione. Un ragazzo, oggi e il futuro, sarà la nostra storia. E' un'esperienza che si tratta di un'esperienza ai nostri clienti, E' un'esperienza a Palo Alto, lì a Cupertino a Palo Alto. E' un'esperienza a Palo Alto, lì a Cupertino a Palo Alto. E' un'esperienza a Palo Alto, lì a Cupertino a Palo Alto. Un'esperienza a Palo Alto, lì a Cupertino a Palo Alto, lì a Cupertino a Palo Alto. Grazie.